Ciao a tutti ragazzi, allora oggi vi faccio vedere un allenamentino dorso e braccia soprattutto da quando sono seguito, non avete visto più tanti allenamenti, devo dire, quindi oggi facciamo vedere questo iniziamo subito con una cosa molto semplice, l'Hack Machine 3x15 C'è una cosa semplice Secondo esercizio, pulle 3x12, 75 secondi, 1 minuto e 15 di recupero tra una serie e l'altra Bene, adesso invece si va a morire col T-Bar 2x8 più 8 più 8 Quindi si muore Alla prossima Alla prossima Alla prossima Allora Alla prossima 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 Alla prossima